DPS Floor, startup innovativa, nata con un sogno di realizzare un progetto abbastanza ambizioso perché vede un mare di tecnicità raggruppate in un unico prodotto. Alla fine parliamo del mercato del sopraelevato da esterno. Io ho voluto prendere tutte le tecnicità di questi produttori, migliorarle, prendere le problematiche del mercato e metterle dentro un prodotto. Credo di esserci riuscito. Parliamo del sopraelevato da esterno, quindi stiamo parlando di ceramiche da 2 cm di spessore, di grandezza variabile, posate sopra questo supporto. Quindi la ceramica si posiziona nei quattro angoli e riusciamo a fare dei pavimenti molto dinamici perché quando vogliamo cambiare il pavimento basta semplicemente togliere la ceramica, metterne un altro e abbiamo un pavimento nuovo. Cosa ha di diverso questo supporto rispetto agli altri che sono presenti sul mercato? Prima di tutto ha un sistema converter, così chiamato, cioè la base in grado di ruotare e di decidere se avere un sistema basculante o un sistema fisso. Il mercato oggi è diviso tra supporti con testa basculante e supporti con testa fissa. Io ho fatto al contrario, ho fatto basculare la base, non la testa, creando un sistema converter appunto che si sposta da fisso a basculante a seconda delle esigenze del posatore. Tutto in un unico prodotto, senza avere alcun accessorio, credo uno dei pochi brevetti a livello mondiale su una tecnicità del genere, su un prodotto per pavimenti sopraelevati da esterno. Il nostro prodotto è sicuramente più accattivante anche per un progettista rispetto a tutto ciò che c'è sul mercato perché fa fare meno lavoro al progettista. Alla fine il progettista deve solo preoccuparsi di scegliere un'estetica, cioè il suo lavoro, che sia bella, che sia gradevole per il consumatore finale. Noi gli diamo lo strumento per far sì che questa estetica venga posata nel modo migliore possibile. Grazie a tutti.